Nell'ultimo bilancio di previsione approvato lo scorso dicembre, il Comune ha previsto lo stanziamento di 1.530.631,62 euro per la guardiania, manutenzione e pulizia dei bagni pubblici. L'assessore al ramo Giuseppe Galasso ci ha confermato che un affidamento per tali servizi è già stato firmato. Noi abbiamo fatto un giro tra alcune di queste strutture a Bari per renderci conto della situazione attuale e di quanto siano necessari questi interventi. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.